Buongiorno a tutti, si parlerà di democrazia, almeno il tema è detto. Sono Simone Caminada, sono blogger, fondatore di Non Quotidiano, una rivista in rete, sono assistente del personale del filosofo Gianni Vattimo, che credo conoscerete. Mi è stato chiesto di introdurre questa serie di video del professor Danilo Campanella sulla post-democrazia e lo faccio con vero piacere. Campanella, oltre ad essere un caro amico, è un filosofo e uno scienziato sociale, ha conseguito un master in geopolitica e una laurea magistrale in filosofia morale e una specialistica in filosofia ad indirizzo storico-critico presso la lateranese di Roma. docente, oggi si direbbe non allineato, ha scritto per varie riviste ed è autore di vari libri che spaziano in più campi, dalla filosofia alla storia e dal romanzo alla politica. Anzi, ne ricordo uno per cui mi sono appassionato talmente tanto che ero in treno che scendendo e mi sono dimenticato pure la valigia. C'era una registrazione di quattro ore di intervista con Furio Colombo su Trump e l'America. Cioè, quante non gliene ho dette poi a Danilo. Va bene, aneddoto a parte, direi di cominciare subito con post-democrazia. dovalis.